Ora riaccendiamo i riflettori sui quartieri di Cremona e sulle loro problematiche. Ci sono infatti zone in cui cronicamente si ripresentano criticità legate a vari ambiti, come accade nel quartiere 6, Zaysta, Nona, Lucchini, Stadio e Via Mantova. Qui l'incuria e la manutenzione sono sempre i primi posti nell'agenda dei problemi da risolvere, così come la questione legata alle forti piogge, ormai possiamo dire quasi una caratteristica del nostro clima, che provocano allagamenti e rendono necessari interventi di contenimento, senza trascurare la pericolosità di certe zone nelle ore notturne e le sempre crescenti lamentele per inquinamento acustico dei residenti in alcune zone che non riescono a riposare. Con il presidente del quartiere 6, Emanuele Re, nostro ospite in studio, buonasera, benvenuto. Buonasera. Torniamo dunque ad accendere i riflettori sul problema di questo quartiere. Dunque le criticità sono diverse, partiamo da quella, forse una delle più sentite, che è quella della manutenzione e quindi dell'incuria. Esattamente. Noi richiamiamo spesso all'amministrazione comunale i suoi doveri di manutenzione regolare e continua delle strade dal punto di vista degli sbrecciamenti dell'asfalto, della mancanza dei dossi per limitare la velocità nel quartiere che sono stati asportati e mai più rimessi e soprattutto nella zona del colatore pippia la manutenzione del verde è un verde spontaneo, spesso e volentieri, che poi ricade sul fondo del colatore e fa sì che il livello purtroppo nei casi di forte pioggia si alzi, con le conseguenze che abbiamo visto e abbiamo anche purtroppo patito un anno fa per quanto riguarda gli allagamenti di cantine e garage della zona di via Solomos. Adesso anche la stagione sta avvolgendo al freddo, quindi arrivano i problemi legati al riscaldamento e quindi ai pagamenti delle bollette. Ci sono persone, famiglie nel vostro quartiere che soffrono in questo senso? È vero. Nostro malgrado, abbiamo letto la lamentela di inquilini dei case Aller, sempre di via Solomos, che si sono lamentate delle bollette da pagare e evidentemente il teleriscaldamento anni fa era una forma di risparmio anche per le famiglie di piccole abitazioni e adesso sembra quasi che le lamenteli siano concentrate soprattutto in queste unità abitative, mentre in quelle unifamiliari tipo billette i consumi sono sotto controllo, probabilmente perché gli impianti sono dimensionati in maniera più recente, nei grandi condomini sembra che la dispersione sia la causa principale di un costo che poi ricade purtroppo sull'utilizzatore. Domani alle 18.30 in quest'ora ci sarà un incontro con i rappresentanti di quartiere, uno dei temi principali sarà la sicurezza, quali saranno per voi le criticità da presentare? Sì, come tanti quartieri periferici a Cremona abbiamo sempre sotto mano situazioni di furti occasionali nelle varie unità sia villette che condomini e questo purtroppo molta gente lo mette in relazione alla poca presenza sulle strade di pattuglie visibili delle forze dell'ordine che sia nella polizia locale di urna oppure carabinieri o polizia nelle ore notturne. Evidentemente diremo in quest'ora che ci serve sempre e soprattutto una informazione ai cittadini, nel senso che i corsi oppure gli incontri sul occhio alla truffa sono importanti perché anche la truffa che è fatta a viso aperto è una fonte di disagio odioso perché si rivolge soprattutto alle utenze anziani e persone deboli. Per quanto riguarda invece la sicurezza in generale sappiamo che d'estate ci sono presenze nei parchi limitrofi dove c'è poca illuminazione e non ci sono stati episodi se non qualche ritrovamento probabilmente dei residui del loro passaggio. Per quanto riguarda noi locali nel quartiere che catalizzano questi personaggi ne abbiamo talmente pochi che non si è proposto d'estate nulla di grave. Certamente diremo che il quartiere dà una sensazione di isolamento che è sempre poco simpatica per chi ci abita perché sembra quasi di essere un po' accerchiati dal pericolo. Vedremo se ci sarà uno sforzo in questo senso delle forze dell'ordine. Sentiremo infatti quali saranno gli sviluppi di questo vostro intervento e di questa riunione. Nel frattempo ringraziamo Emanuele Re, presidente del quartiere 6, per essere stato nostro ospite. Grazie. Grazie a voi.